Bene amici di HDblog, eccolo qua il Meizu MX4 che sta girando questo video fotocamera con lenti sony, questo è il pan, questo è il controluce, un cielo fantastico guardate che azzurro qua a Milano, un settembre decisamente meglio di agosto proviamo con lo zoom, zoom che arriva a 4x, poi torniamo indietro non ho iniziato dalla solita macro e allora pongo subito il rimedio andando vicino al mio fiore preferito, ecco che sta mettendo a fuoco sul fiore ecco fatto, mi risposto, vediamo se cambia fuoco, si l'ha fatto adesso proviamo a camminare per vedere la stabilizzazione che non è ottica e si vede, mi sembra, almeno io lo sto vedendo qua dal display che balli parecchio arrivati dentro all'androne, solito giro casare della posta ascensore in modo da vedere come reagisce alle luci basse quinto piano aspettiamo che si chiude l'ascensore possibilità di fare video anche in slow motion interfaccia della fotocamera abbastanza semplice si possono girare video anche in 4k ci siamo quasi non mi sta addormentando, non mi si è bloccato il computer, mi sto addormentando io io trovo un ascensore più veloce per fare questa prova però questa varietà di condizioni, luce, buio, luce, le trovo solo qua pronte l'apertura, gran quantità di luce che entrerà vedremo l'adattamento alla luce e adesso ci giriamo verso i grattacieli e zoomiamo sulle torri cesarpelli ripeto video che sto girando dal mezzo MX4 attenzione con firmware definitivo di vendita grazie a tutti